E' un'onore e un privilegio partecipare a un evento del genere perché secondo me è molto importante quando il calcio si muove e fa del bene soprattutto per i bambini che sono strettamente collegati. Quindi il Santo Padre in collaborazione con Pupi, questa fondazione di Zanetti, trovo che sia una cosa bellissima. Venite in tanti all'Olimpico. Ok, perciò venite in tanti in Match for Peace. Primo settembre, Stadio Olimpico, Roma.